La musica di Bach, in particolare le suite per il bioncello solo che quest'anno allo Stresa Festival sono affidate a Giovanni Solima, bioncellista musicista geniale, che per la prima volta le eseguirà tutti insieme in due serate. Nel giorno, nella mattina in mezzo alle due serate, Giovanni Solima ci accompagnerà in battello all'erimo di Santa Caterina del Sasso, dove tradizionalmente si eseguivano al Festival le suite di Bach e nel tragitto Giovanni racconterà la sua interpretazione delle suite di Bach, una musica celestiale, una musica fatta per sottrazione, una musica da immaginare, una musica che non finirà mai e sospesi sull'acqua insieme alla voce e al suono di Giovanni Solima, penso sia un'esperienza da non perdere. Insieme a Giovanni Solima, a Santa Caterina del Sasso, per parlare di Bach e delle suite per il bioncello solo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.